quando il mondo si è fermato per il lockdown sono saltati un po tutti i piani che avevamo per questa stagione e ci siamo trovati a riprogrammare tutto dall'inizio senza inizialmente senza sapere neanche un po gli obiettivi e quindi sì non avevamo più certezze e comunque abbiamo cercato di mantenere una una buona condizione anche durante i mesi di lockdown queste queste poche settimane di gara diciamo che sono contento di essere ripartito subito con il piede giusto e insomma anche quello che dicevo prima dopo lockdown tutte le certezze mancavano non sapevo se il lavoro fatto fosse sufficiente o meno e quindi ripartire subito bene con due vittorie un po odio mi ha dato molto mi ha dato molta motivazione credo che con il senno di poi la scelta di restare un altro anno andare 23 sia stata la scelta migliore anche visto come è stato come è andata questa stagione e tutti i problemi che ha causato la pandemia e inoltre credo che sì per fare il salto bisogna essere pronti e quindi un altro anno non mi abbia fatto male anzi nel Citi Friuli ho imparato ad essere un atleta e a vedere il ciclismo come una professione quindi subito ho imparato da loro a lavorare in modo serio a porci degli obiettivi e fare il possibile per raggiungerli quindi cercare di fare ovviamente vita d'atleta e sacrifici e lavorare di due che è un po il motto della mia squadra